Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa in primo piano sui giornali oggi lunedì 10 giugno e i risultati delle elezioni dello scorso weekend. Come di consueto cominciamo la nostra rassegna stampa dalla lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Meloni vince, Macron crolla questo il titolo principale, il voto scuote l'Unione Europea, in Italia governo più forte, successo del Partito Democratico, Forza Italia supera la Lega e tallona il Movimento 5 Stelle. Dunque i servizi, Giorgia l'Europa e la difficile scelta, il pezzo di Francesco Verderami e poi Schlein esulta, dato straordinario di Maria Teresa Meli, infine Conte tradito dal suo sud, Emanuele Buzzi. E poi trionfa la destra di Le Pen, la Francia torna alle urne e trema il governo Scholz. Per von der Leyen è il tempo di fermare gli estremisti. Sull'Europa soffia il vento della destra e il successo di Le Pen in Francia costringe Macron a scegliere l'Assemblea nazionale e a indire nuove elezioni per il 30 giugno. In Germania i socialdemocratici del cancelliere Scholz diventano il terzo partito, governo indebolito. Von der Leyen fermeremo gli estremisti. Sulla prima pagina del Corriere della Sera spazio anche alla politica estera e dunque al fronte della guerra. Israele, Gans si è dimesso, Netanyahu freni la vittoria. Gans abbandona il governo d'emergenza israeliano e a Netanyahu chiede di fissare una data per le elezioni. Non lasciare che il nostro popolo venga fatto a pezzi impedisce a Israele la vera vittoria che è il ritorno a casa di tutti i rapiti. Per Gaza si deve attuare il piano presentato da Biden. Queste alcune delle battute del pezzo di Marta Serafini. Passiamo alla prima pagina di Repubblica, il giornale fondato da Eugenio Scalfari. Unione europea destra a Valanga, questo è il titolo principale. Terremoto in Francia dove vince Le Pen e Macron va a elezioni anticipate. In Germania la FD scavalca l'SPD. In Austria a trionfo del partito di Haider, ma l'alleanza Ursula, Partito Popolare Europeo, Socialisti Liberali, conserva la maggioranza in Parlamento. I popolari dovranno adesso decidere se aprire a Verdi o Conservatori. Fratelli d'Italia intanto in Italia si conferma primo partito, cresce il Partito Democratico, successo di alleanza Verdi-Sinistra, crollo del Movimento 5 Stelle e infine Forza Italia supera la Lega. Andiamo alla stampa, il giornale di Torino, vincono Meloni e Le Pen, Fratelli d'Italia al 27%, Schlein sopra il 23%, in Germania balzo di AfD, Macron scioglie il Parlamento. E dunque gli exit poll, testa a testa tra Forza Italia e Lega, Movimento 5 Stelle in caduta, metà elettori diserta le urne. Passiamo al sole 24 ore, il giornale di Confindustria, di Confindustria, che certamente si occupa di economia, ma quest'oggi dedica il primo piano alle elezioni. Europa avanza all'estrema destra, crollano i partiti di Macron e Scholz. Il voto per Strasburgo viene confermata alla maggioranza von der Leyen, popolari in aumento, socialisti secondi male, i liberali. E poi il voto italiano, successo di Fratelli d'Italia ed Em, Forza Italia davanti alla Lega, Movimento 5 Stelle giù, Renzi e Bonino sul filo. Azione sotto, Verdi e Sinistra crescono, affluenza sotto il 50%. E dunque i servizi, il terremoto che scuote l'Unione, poi l'affluenza tiene, ma non in Italia, e Meloni e Schlein vittorie parallele. A centro pagina, Macron gioca l'ultima carta, voto anticipato il 30 giugno e socialdemocratici al minimo storico, l'ultra destra, secondo partito. Nel taglio basso, la guerra in Medio Oriente, Gantz lascia e chiede le elezioni, Netanyahu non riuscirà a vincere. E dunque Blitz di Kiev, nel cuore della Russia, distrutto un supercaccia. Nel taglio alto, in spalla, a destra, concordato, metà dei professionisti parte dall'otto nelle pagelle fiscali, oggi i correttivi e le sanzioni IVA, esportatori abituali, più facile sanare le fatture irregolari. Passiamo alla prima pagina del resto del Carlino, il voto per l'Europa rafforza il governo. Secondo gli exit poll, Fratelli d'Italia è al 28%, Forza Italia al 9,5% e Lega al 9%. Bene il Partito Democratico al 23% e AVS, Alleanza Verdi Sinistra al 6%. Movimento 5 Stelle in caduta al 12%, Renzi sopra il 4%. Calenda rischia per Meloni un risultato eccellente. Si aprono i giochi per la maggioranza a Bruxelles, a Traino Pipe, un terremoto però l'ondata sovranista. Centropagina, la resa di Macron, Le Pen vince e dunque scioglie il Parlamento, Emmanuel Macron e l'argine von der Leyen, fermeremo gli estremisti. L'editoriale di Agnese Pini, la direttrice, virata a destra in bilico i vecchi equilibri, regge la maggioranza pro Unione Europea incognite sull'Ucraina e leggiamo. La fotografia è chiara, l'esito inequivocabile, l'effetto è già di terremoto. L'Europa vira a destra, lo fa con decisione a tratti clamorosa, con i governi a trazione liberale o socialista che un po' ovunque vacillano e in un caso addirittura crollano, al punto che in Francia Macron, doppiato dalla rivale Le Pen, è costretto a chiamare le elezioni anticipate, facendo calare un amaro sipario su una campagna elettorale condotta in modo affannoso e talvolta azzardato. E la vittoria della destra, certo, ma anche e di conseguenza di quelle forze che più di altre hanno girato le spalle al sostegno all'Ucraina, alle politiche comunitarie che volevano uno sforzo comune, ancora da evidenziare, il contestatissimo richiamo alle armi di Macron e dunque contro il nemico russo. Nel taglio basso, Gantz lascia il governo, ora alle urne, Netanyahu impedisce la vittoria, il dramma di un ex ostaggio rientra e trova il papà morto. La cronaca in Italia, colpo grosso da Bulgari, rapina da 500 mila euro a Roma, infine lo sport e il tennis, Roland Garros al Carazza il re e dunque lo spagnolo batte Zverev. Passiamo alla prima pagina dell'eco di Bergamo, in Europa avanza l'estrema destra, Bergamasca 46, i sindaci in pectore, in Francia stravince Le Pen, Macron convoca il voto anticipato, in Italia fratelli d'Italia, primo o poi il Partito Democratico. E leggiamo. I risultati delle elezioni europee mostrano un cambiamento significativo nel panorama politico con clamorosi successi a Parigi e a Berlino. In Germania i socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz hanno subito una significativa battuta d'arresto. L'estrema destra dell'AfD che ha raggiunto il 16,5-16%, in Austria il maggior partito è accreditato al 27%, diventando per la prima volta nella sua storia la forza politica più importante del paese e in Francia si registra la vittoria schiacciante del partito di estrema destra di Marine Le Pen. Il presidente Macron ha sciolto il Parlamento e convocato elezioni anticipate per giugno. Il primo ministro belga, dopo la debacle del suo partito liberali e democratici Fiamminghi, ha annunciato le dimissioni per oggi. E con la chiusura delle urne, 46 candidati sindaci attendono solo l'ufficialità per l'elezione. Sono gli aspiranti primi cittadini dei comuni in cui si è presentata una sola lista. Superato lo sbarramento del primo quorum, 40% di votanti. Per l'elezione attendono solo che almeno la metà dei voti sia valida. E a Bergamo gli exit poll per parafrizzoni i carnevali. Avanti! C'è spazio anche per la cronaca sbalzato dall'auto. Muore vicino di casa. Restiamo a nord e lo facciamo con la prima pagina della provincia di Como. Già eletti 23 sindaci comaschi europee, uno su due non vota. L'affluenza cala in tutta la provincia. I risultati aggiornati certamente sul sito web del giornale. La prima pagina della provincia di Lecco, anche in questo caso le elezioni in primo piano. Crolla l'affluenza, 10 i sindaci già eletti. Alle 19 al voto solo un lecchese su due. Oggi i risultati del comune. Poi, olginate, i residenti hanno paura, petizione per chiedere sicurezza e nel taglio basso la scuola invalsi, brillano le scuole lecchesi e leggiamo. Gli studenti delle scuole superiori del lecchese hanno le migliori competenze in italiano di tutta la penisola. Non solo, vanno bene pure in inglese e in matematica. Lo certifica la Fondazione Open Police che per ciascun comune dove è presente almeno una scuola superiore ha calcolato la media dei punteggi ottenuti da tutti gli studenti che hanno sostenuto le prove invalsi in quinta superiore nell'anno scolastico 2022-2023, ovvero lo scorso anno. I più bravi sono stati gli studenti del Bachelet di Oggiono che hanno ottenuto un punteggio medio di 224,58 contro la media di Lecco, città, che è di 206,72 punti. Siamo molto contenti di questo risultato, sorride la dirigente Anna Panzeri. I nostri studenti si impegnano molto, sono attenti in classe e studiano parecchio a casa. Ma alla fine i risultati si vedono la provincia di Lecco è prima in classifica, seguita da Aosta e Sondrio che ha la media di 205,19 punti. A proposito di Sondrio andiamo sulla prima pagina della provincia dedicata a questa città. 15 paesi con una lista, tutti hanno già il sindaco, quorum superato. Attesi i verdetti a Morbegno, Tirano e Chiavenna. E dunque frontalieri, record nei grigioni, superata a quota 10.000 lavoratori. Nel taglio basso poi spazio per il calcio, Mosconi altri due gol con l'Inter under 17. E ora andiamo a sud e lo facciamo con la gazzetta del mezzogiorno. Europa guida centrodestra, PPA in testa, in Francia il botto di Le Pen, exit poll. Fratelli d'Italia resta primo partito, cresce il partito democratico, batosta Movimento 5 Stelle, De Caro prenota l'aereo per Bruxelles, Bari verso il ballottaggio le Cesero mito, ma crolla l'affluenza. I focus certamente sono dedicati alle elezioni, tensione ai seggi, finisce nei guai candidato a Lecce e per vannacci si annuncia record di voti. Nel taglio centrale G7 in Puglia soffiano venti di pace, Kiev punta sul summit e Roma maxifurto da Bulgari ladri in fuga con 500.000 euro. Leggiamo nel mirino la gioielleria Bulgari di Via Condotti, uno dei salotti del centro storico della capitale ha portato ai ladri un bottino enorme e si tratta soltanto di una stima provvisoria. Nel taglio basso poi la cronaca dalle province, Gravina cede un cancello in ferro e uccide un volontario 45enne, sindrome del cuore infranto apre un ambulatorio a Foggia e Taranto abusi sulla minorenne, nuove accuse al professore. E poi il calcio, test terminati per l'Italia, all'ora della verità in Germania, Bosnia battuta con un solo gol di scarto. E poi Megalini sempre più vicino alla ripartenza bianco-rossa, vicina l'ufficializzazione del DS e caccia al misteri. Dunque il dopo Giampaolo, Massimo Donati ai tempi in cui indossava la maglia del Bari è uno dei papabili per la panchina. Rimaniamo a sud, lo facciamo con l'edicola del sud. De Caro prenota l'Eurocamera, boom di preferenze per il sindaco uscente di Bari. In Puglia supera persino la premier Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia, primo partito, bene il Partito Democratico, comunali le proiezioni a Bari. Leccese avanti a Romito, possibile ballottaggio. E leggiamo. Il sindaco uscente di Bari, Antonio De Caro, va verso l'Europarlamento, per lui boom di preferenze nella circoscrizione meridionale e in molti collegi della Puglia supera addirittura la premier Meloni. Fratelli d'Italia, resta il primo partito, bene il Partito Democratico e AWS, risultati deludenti per Lega e Movimento 5 Stelle. Instant Paul a Bari, Leccese è dato in vantaggio, possibile ballottaggio con Romito a Potenza. Fanelli potrebbe spuntarla al primo turno, oggi il verdetto per le comunali. A centropagina poi, la cronaca, la tragedia Gravina, amore schiacciato dal cancello in parrocchia, c'è l'inchiesta, i ceri accesi per lutto davanti alla parrocchia di Gravina, li vediamo in foto, e la cronaca da Barletta, malore in acqua, bagno fatale a un 78enne. Il bagno nelle acque di Levante a Barletta è stato fatale a un 78enne che all'improvviso si è accasciato ed è morto, terrore tra i bagnanti che hanno assistito alla scena. E poi G7 domani statali off-limits, la prefettura di Brindisi ha diramato il piano traffico in vista del G7 in programma a Borgo Ignazia da giovedì a domenica, statali off-limits ai mezzi pesanti, mentre a Fasano potenziati navetta e collegamenti via mare. Passiamo al messaggero, Meloni più forte in Europa, questo è il titolo principale, elezioni europee, nelle proiezioni Fratelli d'Italia cresce al 28,9%, la Premier premiate e le nostre scelte difficili. Forza Italia verso il sorpasso sulla Lega. Invece il Partito Democratico si rafforza al 24,5%, male Movimento 5 Stelle al 10,5%, sorpresa AWS al 6,8%, Stati Uniti d'Europa e azione sono a rischio, affluenza al 50%. Leggiamo, elezioni europee, Meloni si rafforza e diventa più forte in Europa, ma cresce anche Schlein, nelle prime proiezioni Fratelli d'Italia si conferma primo partito e cresce al 28,9%. Bene, Forza Italia che si attesterebbe al 9,4%, superando la Lega, ferma all'8,5%, Vannacci eletto, il PD arriva al 24,5%, male Movimento 5 Stelle al 10,5%, sorpresa AWS che le proiezioni danno al 6,8%, Stati Uniti d'Europa e azione in bilico sul 4%, più di un elettore su due ha disertato la consultazione. In Europa la vittoria del PPE consente alla cosiddetta maggioranza Ursula di ottenere la conferma affidandosi ai Verdi o ai Conservatori. L'analisi è a firma di Giovanni Diamanti, Giorgia Edelli un successo che polarizza nella notte nera dell'establishment europeo, in mezzo ai crolli di Macron in Francia e dell'SPD di Scholz in Germania, l'Italia ci consegna uno scenario in cui, come spesso accade, i vincitori. Sono molti. E poi Firenze e Bari verso i ballottaggi, Cirio bis vicino e dunque focus sulle amministrative. Alberto Cirio, governatore uscente, va verso la conferma in Piemonte, a Firenze si va verso il ballottaggio Funari Schmidt, così come a Bari. La sfida sarà tra Leccese e Romito. Masci vicino alla conferma, al primo turno a Pescara, Ferdinandi centrosinistra potrebbe vincere subito a Perugia. E poi a centropagina, Parigi-Berlino vola all'ultra destra, Macron scioglie il Parlamento, Francia subito al voto, AFD supera Scholz, estremisti primi in Austria. I numeri comparsi sugli schermi francesi all'evento in punto confermano il terremoto, l'estrema destra del Rassemblement National, guidata da Bardellà, vola al 32%, un record storico, doppia Renaissance, il partito del Presidente Macron che crolla al 15%. E in serata arriva l'annuncio, elezioni anticipate il 30 giugno e il 7 luglio. a Berlino, vittoria della CDU e debacle della SPD, il partito nazionalista AFD sorpassa i socialdemocratici ma Scholz resta cancelliere. E poi la maggioranza, Ursula, si conferma l'invito del PPE a socialisti e liberali. Crescono le destre, calano le sinistre, crollano liberali e verdi, ma nonostante gli scossoni, la maggioranza di larga intese pro-Unione Europea che ha finora sostenuto Ursula von der Leyen dovrebbe reggere alla prova dei numeri. Con 398 eletti su 720, il fronte di popolari del PPE, socialisti e liberali sarebbe sopra la soglia della maggioranza assoluta di 360. Poi nel taglio basso, Israele, Gantz, Lascia e Hamas nel blitz uccisi tre ostaggi. Netanyahu dunque appare più debole. E passiamo alla prima pagina del mattino, il giornale di Napoli, Europa a trazione Meloni, Macron scioglie il Parlamento dopo la debacle al voto, il PPE è il primo partito. Il ruolo dei conservatori, Fratelli d'Italia al 28,9%, il Premier al G7 con il governo più forte di tutti, PD al 24,5%, flop Movimento 5 Stelle, Forza Italia davanti alla Lega. È l'unico capo dei paesi fondatori a vincere le elezioni, terremoto in Francia e in Germania. Crolla Scholz, affluenza ai minimi nel sud e a Napoli va meglio per i sindaci e poi il commento, la doppia faccia dell'astensione e i colloqui del mattino. Antonio Tagliani, un risultato straordinario, sud sempre più protagonista. Gennaro Sangiuliano, il successo di Giorgia sposta l'attenzione sul Mediterraneo e Francesco Boccia, solo unendo i mezzogiorni, avanzerà il piano di coesione. Poi nel taglio basso la cronaca tragedia in mare a Posillipo muore travolta da gommone, caccia al pirata che ha speronato la canoa. Poteva essere salvata, invece chi l'ha speronata a bordo della canoa è uccisa è un pirata e si è immacchiato del peggiore reato che si possa consumare a mare. L'omissione di soccorso, la tragedia nelle acque di Posillipo dove un gommone ha speronato la canoa sulla quale c'erano un uomo e una donna. Ad avere la peggio una turista lombarda e in foto vediamo l'intervento della polizia sullo specchio di mare a Posillipo dove è avvenuto l'incidente. Nel riquadro la vittima. Chiudiamo questa rassegna stampa con il quotidiano del sud, Italia a destra, Europa pure, exit poll in Germania successo dell'estrema destra, si dimette il premier del Belgio. I primi dati parlano di un successo di Fratelli d'Italia e della sostanziale tenuta del Partito Democratico. In calo il Movimento 5 Stelle, Forza Italia potrebbe effettuare il sorpasso sulla Lega, incertezza per Renzi, calenda male a Santoro. In Europa l'attuale maggioranza dovrebbe conservare la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della Commissione. Con questo titolo chiudiamo l'assegna stampa di oggi. A me non resta altro che augurarvi buona giornata e buon proseguimento con i programmi della rete.